buongiorno a tutti allora come sempre il buon gigione vi manda gli auguri di buon natale vestito naturalmente con la barbettona il cappellino la giacchettina rossa di babbo natale babbo natale gigi vi manda i migliori auguri di buon natale a tutti i suoi follower 1020 incredibile qualcuno mi viene a scrivere che sono pochi chiudi il canale ma per me guardate avere 1020 follower è qualcosa di incredibile qualcuno dirà sono pochi e certo sono pochi rispetto a una ferragni che ne ha rispetto a un sequel che ne ha 497 mila forse adesso e 800 magari ha riuscito ad arrivare a 497 mila 800 chi lo sa e ne chiede sempre di più ma viene da ridere cioè i 500 quasi 500 mila follower di nuova che voglio ancora di più io ne ho 1020 non vi chiedo mai di iscrivervi al canale quindi auguri a tutti grazie di tutto sia quelli che vengono a prendermi per i fondelli sia quelli che invece magari apprezzano quello che faccio ci tengo particolarmente al mio canale cerco di postarvi sempre video tutti i giorni anche se a volte magari ci potrei anche non avere voglia può capitare un po di dolce far niente ogni tanto ci vorrebbe poi qualcuno verrà dimenticino adesso il mio canale vi impegna ragazzi mio canale nonostante tutto vi impegni poi che non sia un lavoro può essere però mi piace mi piace fare video su youtube mi piace stare a parlare davanti a una telecamera non vedete solo prolisso inizio con un argomento poi vado a parlare di tante cose comunque non voglio essere prolisso adesso con gli auguri quindi buon natale a tutti ringrazio tutti con il video quello che vi avevo promesso l'ho messo naturalmente andato subito a vederlo al mio amico beppe perché il curiosone lui donna piangina deve curiosare subito cosa dirà il gigione adesso sono curioso quando faremo la prossima tornata la pocheristica cosa mi diranno tutti su questa cosa qua che vi ho raccontato molto personale ma tanto lo vedranno in quattro gatti un canarino quindi non penso che non mi devo preoccupare minimamente detto questo ragazzoli buon natale a tutti adesso ve li farò fare anche gli auguri da don gigi da don cherubino video veloce veloce da leccarsi le orecchie di un minutino giusto per fare gli auguri perché giustamente anche loro vogliono fare gli auguri a coloro che li seguono vi ringrazio perché è giusto sempre ringraziare sia quelli che hanno piacere a vedere i miei video sia quelli che vi vengono a scrivere fallito chiudi il canale poi a vedere quanti follower addone hanno due e non hanno fatto un video su youtube di anche a piangere e dimostrano la loro pochezza perché sapete un conto che disse ma le persone che hanno tanti follower eccetera non vado a prendere per i fondelli quelli che ne hanno pochi anzi magari cercano di dargli una mano come ha fatto il buon catto che ogni tanto mi chiama per fare una diretta ormai non mi chiama più perché naturalmente tanti tante persone che sono disponibili a fare la diretta con lui che io sono nulla come dico sempre io sono il monte stella loro sono il monte bianco l'everest il k2 il chiliman giaro eccetera 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 le montagne rocciose quindi è normale ci sta comunque il buon catto lo seguo sempre come un cane da tartufo perché è sempre un piacere hermes messaggero nero azzurro nato che seguo diego ligorio luca nero azzurro mario inter su instagram l naturalmente i miei due promoter quelli che vi hanno creato tra virgolette o comunque vi hanno convinto a fare lo youtuber stefano piffer e lilletta eli ma soprattutto stefano piffer che sono stati i primi due youtuber che ho seguito singwolf emanuele giallorosso anche lo zoccolo duro dai diciamo anche lui anche se lo seguo poco daniele brogna che ogni tanto vedo qualche suo video soprattutto quello che fa con l'amico milanista che si incazza come una iena spero di averli a papirus che ultimamente non riesco più a seguire lui e il suo parma che verrà in serie a purtroppo così che abbiamo tre squadre miliane che mi ci romperanno i testi tutti gli anni e ragazzi miei poi chi c'è d'altro ma c'è la porcellina pink andy ma quella dove la consiglio a meno che siete maggiore di questa l'ho conosciuta da poco una porcellina toscana dovrebbe essere toscana su via e poi penso di averne nominati parecchi magari non dimenticato qualcuno chiedoveglia però più bene a nadia tempest che la devo ringraziare perché è stata lei tramite un'intervista proprio fatta con heller a farmi conoscere l ormai 5 6 anni fa io ve lo consiglio il canale di heller so che magari a noi maschietti dei suoi consigli sull'estension mica l'estension poi soprattutto per me che cavolo bene faccio dell'estension però le cose di crescita personale sulla legge di attrazione possono essere molto interessanti e anche sui prodottini femminili sono utili perché poi io faccio i regali alle mie amiche che mi si esaltano alla grandissima e si fatti le ragazze penso siano state soddisfatti adesso vedremo quando useranno i prodotti se saranno felice o vedo comunque erano abbastanza soddisfatte ho detto gigi se il solito esagerato per me esagerare fare un debis poi un anello debis quella esagerare ma quelli sono regalini per me sono regalini niente di che dei piccoli pensieri poi ognuno ha le sue suoi punti di vista ragazzoli come sempre io video lungo troppo non volevo farlo così lungo ma è venuto lungo così tanto su facebook su youtube problemi di tempo non ce ne sono i video lui di carica tranquillamente senza nessun problema che siano lunghi che siano corti scusate il bronco di riace anche perché questa barba comincia a darmi noia quindi per cui ho dovuto evitare di soffocare sia umano la barba alla fantozzi scusi hanno messo la parete a vetri sia umano come umano lei grande paolone villaggio che anche lui ci ha lasciato va bene ragazzoli vi saluto buon natale e naturalmente ci vediamo tra un attimo che faccia anche don gigi e don carubino ciao